Consigliere Falciola, l'amministrazione in Consiglio Comunale va sotto sulla mozione della ZDL del Parasio, c'è un aspetto politico, ce n'è uno anche amministrativo, però strettamente legato alle esigenze dei cittadini? Sì, assolutamente, c'è un aspetto politico nel senso che parte dei consiglieri di Impiracambia hanno portato avanti questa mozione in cui chiedono sostanzialmente una rivisitazione di questa ZDL del Parasio e su questa mozione abbiamo trovato noi come gruppo di Forza Italia un punto d'incontro dando mandato al sindaco e all'amministrazione di aprire in tempi celeri via vecchie carceri per un parcheggio serale notturno, quindi dalle 8 di sera fino alle 7 del mattino, quindi dare la possibilità ai residenti di avere questi 20-25 posti auto che già può essere una buona soluzione. Il punto è che si è fatto questa ZDL al Parasio, ma fare una ZDL comporta comunque anche dare un qualcosa ai cittadini, perché in tutte le parti del mondo quando si fa un intervento di questo tipo c'è a corredo un discorso di arredo urbano, un discorso di tutela comunque del territorio, invece al Parasio grazie agli interventi del POR, quindi grazie alle amministrazioni precedenti che hanno catturato questi finanziamenti c'è stata una riqualificazione, ma ora se si va al Parasio il Parasio è sostanzialmente privo di un arredo urbano decente e consono a quello che comunque è un borgo bello come il Parasio. Quindi innanzitutto riqualificare il Parasio dal punto di vista urbano e della tutela del paesaggio. Due, se si vuole ragionare sul Parasio bisogna ragionare anche in termini produttivi, quindi anche dare la possibilità a chi vuole investire e investire il proprio denaro nell'apertura di attività commerciali, ci possono essere dei magazzini interessanti, bisogna anche dare un premio, cioè sostanzialmente magari ragionare su degli sgravi fiscali a livello locale, sulle imposte comunali. E comunque fare un ZTL e non permettere alle auto di poter andare sul Parasio per andare in quei due o tre ristoranti che ci sono, quindi permettere che il commercio vada avanti. Quindi questa chiusura, questa sordità da parte dell'amministrazione nei confronti di un'istanza di cittadini è una cosa intollerabile. Allora, cosa è successo? È successo che i consiglieri comunali di maggioranza di Imperia Cambia, e ricordiamo che Imperia Cambia è la lista del sindaco, creata dal sindaco per le elezioni comunali di 2013, questa lista che è figlia della sua iniziativa politica, i componenti si sono giustamente rivoltati a quelle che sono le opinioni del sindaco e della giunta, hanno alzato la testa, hanno dimostrato di avere un certo coraggio e soprattutto hanno dimostrato di avere una certa sensibilità nei confronti dei cittadini. Noi, che abbiamo numerosi amici sul Parasio, quindi dei punti di riferimento, abbiamo trovato questo punto di incontro, cioè amministrativo, iniziamo a dare questa apertura, c'è stata la quadra su questa nostra iniziativa e quindi abbiamo appoggiato questa mozione ed il sindaco è andato in minoranza. Il discorso del Parasio, poi dobbiamo anche però parlare, non soltanto del Parasio, ma anche dei parcheggi di vivenza, cioè che se tutto fosse andato come doveva andare, il parcheggio non sarebbe un mezzo piano, ma sarebbero due piani sotterranei di parcheggio. Quindi il discorso è che sul Parasio bisogna iniziare, ma non solo sul Parasio, su tutte le realtà cittadine, quindi penso a Via Santa Lucia, penso alla Marina, penso a Onelia che c'è il Luna Park, che è di nuovo tolto parcheggi, cioè bisogna andare incontro a quello che i cittadini, a coloro i quali vivono la città, ci dicono e ci sottolineano. Un'amministrazione e un sindaco che vuole essere il rinnovamento, il cambiamento, una manifestazione tutti i giorni, un decoro urbano eccezionale, alla fine cosa ha fatto? Non ha fatto nulla. La città è sporca, le strade sono delle buche e delle gruviere, non si può parcheggiare, ogni intervento di viabilità che fa è peggiore invece che migliorare, quindi sinceramente noi abbiamo detto basta e abbiamo trovato questo punto di incontro in merito a questa mozione.